Sopralimentazione attivata. 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 A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio. Abbiamo affondato un cacciatorpediniere nemico! A presto! A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio. Sopralimentazione attivata. Fornire fuoco di supporto contraereo. Generatore di fumo avviato. A tutte le unità, segnalo la posizione di un bersaglio strategico. Sopralimentazione disattivata. Sopralimentazione disattivata. Sopralimentazione disattivata. Grazie. La squadra nemica è in vantaggio. Sovralimentazione attivata. La squadra nemica sta colando a picco. La squadra nemica sta colando a picco. Caccia torpediniere nemico colato a picco. Fornire fuoco di supporto contro aereo. Problema risolto, signore. La battaglia terminerà tra cinque minuti. La battaglia terminerà tra cinque minuti. I nemici stanno per vincere. Generatore di fumo avviato. Sovralimentazione attivata. La battaglia terminerà tra cinque minuti. Rilasciata cortina fumogena. La battaglia terminerà tra cinque minuti. 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 Rilasciat dè Garyanta. Grazie a tutti.